Cosa vuol dire? Che c'è il scetticismo! Vogliamo bassi, bassini! In questo pre-campionato sembravano tutti dei cocker, avevano tutte le orecchie basse, non ne vincevano una! Non eravamo, noi dei cocker ieri, noi entri siamo dei neore oggi! Ha visto perché hanno vinto il Berlusconi, che è normale, e hanno vinto la prima controcena. È impazzito! Uuuuh ragazzi, sento delle cose! Ho sentito! Chiamate il genetico! Stai mettendo le mani avanti, stai mettendo le mani avanti, chiamate il cento di ciocco io! Mi asfalteranno! Benissimo! Per favore regia, registrate questa dichiarazione! Mi asfaltiamo! La registrate! Fabiano e Patitucci registrate! Ci asfaltano! Fabiano e Patitucci registrate! Ritorniate con le orecchie a cocker! Sì, sì, va bene! Sì, io voglio andare a Roma e... Your crew, device, your blood, like ice, one look, could kill my pain, you're three! Allora Giovanni, Giovanni intanto Gianni viene... La lavagna, a far vedere il fallo di... Maicon è gol! Maicon! Douglas! Maicon! Douglas! Maicon! Tre! E zero! E lì! I wanna love you, but I better not touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much. I wanna taste you, but your lips are a venomous poison. You're poison running through my veins. You're poison. I don't wanna break these chains. Poison. I wanna love you, but I better not touch. Don't touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I wanna do much. Too much. I wanna taste you, but your lips are a venomous poison. Yeah! Well, I don't wanna break these chains. No, Fabio, siamo qui fuori dallo stadio di San Siro, dove i tifosi dell'Inter stanno festeggiando questa vittoria importante, come puoi sentire dai cori. Salvini qui va per venir sognare caca! Oh oh oh. Like horseback. Oh oh… Siè venutisi qua! Siè venutisi qua! Per venere sognare caca! Gregcada, ecco quindi Fabio voi vedi tutto l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter qua fuori dallo stadio di San Siro. Ovviamente linguaggio abbastanza colorito da parte dei tifosi dell'Inter Ragazzi, ragazzi Ragazzi, ma il migliore in campo dell'Inter chi è stato? E' tu! E' tu! E' abbastanza impossibile E' abbastanza impossibile comunicare E' abbastanza impossibile E' abbastanza impossibile E' abbastanza impossibile